numero telefonico centralini che rispondono sempre 24 ore anche di notte se vi salta in mente di comprare qualcosa da noi i nostri centralini rispondono quindi numero telefonico in sovraimpressione per ordinare questa è una televendita prossimo prodotto è questo io già l'ho indossato vedete lo riuscite a identificare con fatica proprio perché è molto discreto allora si tratta di uno strumento di amplificazione audio questo in pratica si mette sull'orecchio lo vedete è una cosina leggerina semplicina la vedete poco proprio perché è di colore simile alla pelle e proprio perché non è una roba invadente poi naturalmente nella grafica e immagini vedete tutto molto più chiaro che cosa vi stiamo proponendo avete qualche problemino a sentire le voci a capire bene insomma vi sia un po abbassato l'udito volete un aiuto diciamo così volete un aiuto per ascoltare meglio la televisione senza aumentare il volume che i vicini iniziano a bussare si lamentano ne dicono di tutti i colori volete partecipare alle conversazioni con i vostri amici con i vostri familiari e sentire proprio bene bene un po più alto il volume un po più chiaro il volume e beh questa è la soluzione anche per andare al cinema ad esempio andare in giro in strada è in giro in strada se uno sente un po sì un po no e magari può essere rischioso perché non senti i rombi delle auto non senti la gente i clacson ad esempio e beh è una roba complicata invece invece se avete questo attrezzo io ve lo faccio vedere lo faccio apposta perché così voi dite sì ma non si vede bene ma è giusto così perché non si deve vedere bene perché è una cosina piccolina che si mette sull'orecchio io quindi l'ho perfettamente indossato vedete colore pelle quindi si distingue poco e in pratica ne ricevete due mega offerta ne ricevete due e in più ricevete anche in omaggio la versione diciamo stile bluetooth per chi è un po così si fa dei problemi ma lo comprendiamo naturalmente ognuno ha il suo modo di pensare e tutti quanti ci dobbiamo volere bene insomma se qualcuno quando va fuori magari per strada preferisce avere una cosa un po più cammuffata va benissimo quello che diamo in lo vedete nell'immagine nel senso che sembra un bluetooth avete presente si mette sempre sull'orecchio sembra di quei cosi che si mettono insomma quelli che usano i cellulari avete presente vedete in giro queste persone con questo aggeggino sull'orecchia e serve per ascoltare i telefoni cellulari per ascoltare le chiamate per parlare eccetera invece voi che cosa avete voi avete il vostro amplificatore acustico che cammuffato che ha lo stesso design allo stesso stile di un simil bluetooth è stile di quel tipo lì così potete andare in giro e nessuno sa che in realtà è un amplificatore d'udito amplifica fino a quattro volte è eccezionale fino a quattro volte quindi sentite bene con un volume alto poi lo regolate naturalmente se avete un parente una zia un cugino una cognata un nonno e vedete che si sta un po abbassando l'audio ha bisogno di un piccolo aiuto per anche per vedere la televisione senza alzare il volume al massimo questa è la soluzione guardate qua e adesso vi faccio anche vedere